Buongiorno a tutti, WBIF Online Team Championship, incontro tra Italia e Sudafrica, siamo al secondo match, Sudafrica conduce per 1-0, giocano oggi Carlo Melzi e Michael Haglund. Il match è già iniziato, siamo in ritardo, partiamo subito, eccoci qua. 4-0 per il giocatore sudafricano e diciamo anche 6-0, quindi inizio in salita per Carlo, due giocatori stanno giocando bene, Carlo 4, sudafricano addirittura 3-40, fa un'ottima ancora difensiva, sì questa mi sembra... avrei preferito giocare 13-8, però è andata bene, Carlo non è stato colpito, la corsa è all'incirca pari, doppio 5... beh sì, questa sicuramente giocherei 13-3, l'altra possibilità è fare casa 1, preferisco 13-3 però, invece no, probabilmente era giusta l'altra, doppio 5 per anche per il Michael Haglund, Carlo non colpisce, ha un leggero vantaggio in corsa, qui direi 13-7, 6-5... doppio 3, ottimo, e poi 13-10, sì... adesso Carlo è nettamente in vantaggio in corsa, invece viene colpito, accidenti, rientra fortunatamente, 6-3, adesso ha un bel vantaggio in corsa, comunque ma ha il problema di portare avanti lo straggler, direi 13-8-10-6, non vedo di meglio, è indeciso, avrei preferito l'altra, 3-2 deve cercare di scappare, direi 23-18, non viene colpito, ottimo, direi che è ancora presto però per il double, solo 7 pip di vantaggio, ok che sta perdendo 6-0 però aspetterei assolutamente, la casa del sudafricano fa paura, 3-1, sì dove mi sembra ottima, viene colpito però rimarrebbe con due blotti in giro, due blotti in casa e altri tre in giro, molto rischioso, al posto di Carlo su questo punteggio occuperei, perché se colpisce a buone chance di Gammon, infatti ha colpito due pedine, qui colpirei sicuramente sul 21, ha fatto casa, perfetto, ha fatto un rientro molto fortunato il sudafricano, speriamo che non si ancori, invece si ancora subito, però rimane un blot in giro, 6-3, non colpisce, a questo punto ha un back game, il timing non è neanche malvagio, ma è un po' troppo avanti con l'occupazione delle case, il sudafricano, per cui sta pensando proprio di scappare, c'è un back game con la casa 4 aperta, non è proprio il massimo, direi 8-1, questo non è un bel tiro, deve lasciare un un tiro diretto, sì, direi 8-7, lo colpisce, accidenti, bisogna sperare di ricolpire con un 4 oppure rientrare con un 6, rientra col 6, il 5 è troppo rischioso, deve giocare 6-1, doppio 4, secondo me deve coprire casa 4, questa è molto rischiosa, sarebbe 16-4, poi rimane un 4 da giocare, che non è piacevolissimo, però dovrebbe lasciare il tiro diretto, serve un 4, niente, continua a danzare, la corsa è all'incirca pari, doppio 5, le case sono forti e uguali, direi che a questo punto è probabilmente avvantaggiato il sudafricano, che oltretutto ha il cubo in mano, beh, no, questa mi sembra, porterei avanti dal, dal 17, ah, però dovrebbe essere dovuto andare sulla casa 6, quindi va bene questa, ricubare a 4, sicuramente money game sarebbe un redouble molto forte, e qui è un po' rischioso, però secondo me ci può stare, intanto i due giocatori stanno giocando intorno al 3-5, 3-6, questa non è una scelta piacevole per Carlo, che accetta, tira un 6-6 malefico, l'avversario, e adesso, beh, perde, perde il game, andiamo sul, sul 10-0, il double era un blunder, ma è andato benissimo, forza Carlo, non è ancora finito, abbiamo visto il rimonte più eclatanti, qui deve fare casa 9, casa 5, sicuro, colpisce, colpisce o fa casa il bar point, ma penso che sia meglio colpire, doppio 4, buono, sarebbe bello fare casa 20, però rimane poi un altro 4 da giocare, probabilmente 13-9, diciamo questo è il gioco puro, mettere le pedine dove, dovrebbero arrivare, però è un po' rischioso, sì ma penso che preferirei quella, preferirei quella, 3 pedine indietro, l'ancora, è invece un blunder, l'ancora mi dà sicurezza, avrebbe dovuto mettere 4 pedine sulla casa 9, blunder di Carlo, è anche il mio, la corsa è all'incirca pari, sì, io sceglierei proprio questa, che invece non va bene, rischioso colpire, per il sudafricano, e avanzerei dal golden, sì, 4 pip di vantaggio, ci sta, ottimo, doppio 3, per Haglund, deve andare, andrei sull'11, senza pensarci minimamente, anche perché è in vantaggio in corsa, infatti questo è un blunder, 6,2, 13,7, 6,4, adesso la casa di Carlo è abbastanza forte, il sudafricano ha una posizione un po' rigida, troppe, non ha spare nell'outfield, questo lo costringe a giocare, in maniera, poco agevole, delle mosse, Carlo è un po' in ritardo in corsa, sì, l'alternativa è scendere dal mid, ma a questo punto, si toglie la pressione, sulla casa 14, quindi mi sembra corretta questa, 13,9,2, 3,1 fa casa 3, però adesso, il sudafricano, no, mi piaceva di più l'altra, sta mantenendo un 6, ma piace questa, adesso il sudafricano ha due sper sulla casa a 9, doppio 1 è ottimo, adesso Carlo deve abbandonare il mid, 6,3, deve giocarlo dal 9, 10 pip di ritardo per Carlo, doppio 3, si giocherei quella perché se adesso chiude casa 1, poi rischia di trovarsi più in difficoltà rispetto all'avversario, qui dovrebbe tirare alto, 6,1, 2,1, ottimo 6,5, con un tiro di ritardo ma va benissimo, qui adesso è un double, double take, nettissimo, brutto tiro di Carlo, 3,2, ok, questo è meglio, anche se il 4 va benissimo, se il sudafricano non tira da di doppi, stavo dicendo, ha tirato subito un doppio 4, che non è il doppio migliore, però sicuramente lo aiuta tantissimo, il 2,1 di Carlo invece è pessimo, Carlo rimane con 6 pedine da tirar fuori, altro doppio 4, però per fortuna doppio 3 di Carlo, dovrebbe vincere, però questo non è un bel tiro, ed è uscito, 10,2, speriamo che Carlo riesca a recuperare, doppio 6, tutte e quattro, no, 2 le metterei sulla casa 2, e questa è anche buona, non ce l'avevo proprio pensato, 5,3, scenderei dal mid, 2 down, forse è meglio questa, 6,5 dal mid, 4,1, sicuramente fare casa 8, e invece no, altro doppio 4 ottimo per il sudafricano, Carlo non colpisce, questo su questo score forse è un po' esagerato il cubo, però la posizione è fortissima, 31 pip di vantaggio in corsa, secondo me Carlo deve accettare, 3,2 fa casa 5, però potrebbe essere colpito, niente, Carlo non colpisce, infatti il double era prematuro, e anche fare casa 5 è un blunder, direi casa 2, bisogna sperare assolutamente in una scopertura, altrimenti non ci sono chance, 13,12, 13,9 direi, o questa, non cambia tanto, 5,4 fa casa 1, ci sono addirittura dei rischi anche di Gammon, non alti, però, qui deve scappare, rimanere indietro non dà grandi prospettive, perché dovrebbe smontare la casa molto presto, vediamo, sono curioso, era preferibile scappare, 6,4 è fortunato, perché non può tirare il 6, 3,1 è molto rigida, ottimo, non può tirare il 5, quindi deve tirare solo 1, doppio 3, doppio 3, che però non è, eh sì, toglie fuori una pedina, giustamente, 5,3 deve giocare dal 5, e sì, sono d'accordo, 4,2 può liberare casa 6, questa la vedo più rischiosa, non ha molto senso, secondo me, i Gammon sono pochi, invece no è corretta, strano, io avrei giocato dal 6, avrei sgombrato casa 6, beh, 3 millesimi di differenza, vabbè, Carlo diciamo che dovrebbe evitare il Gammon, non è neanche scontato, perché sta tirando doppi, l'avversario, ok, il Gammon è evitato, però andiamo, Crawford, 12,2, brutta storia, poche prospettive, sicuramente, per Carlo, colpisce subito, l'avversario, Carlo ricolpisce, forse colpirei sulla casa 14, Carlo sta giocando a 3,35, l'avversario a 4, colpisce ancora, colpisce ancora, colpire ancora, diciamo che Carlo ha punteggio pari, per cui, non è particolarmente interessato al Gammon, il più 4, sicuramente casa 9, sì, mi piace questa, se dovesse colpire, dovrebbe sgomberare casa golden, invece no, non è corretta, direi casa 4, e 10,8, qui è, posizione di netto vantaggio per Carlo, ha un buon prime, l'avversario ha un back game, con un timing molto sospetto, qui deve colpire, giocare 8,6, colpisce altre due pedine, aia, questo doppio 6, non ci voleva, 2,1, direi 7,4, no, io cercherei di mantenere il prime, sperando che non tiri un 5, un 6, però c'è anche da dire che se invece tira un 5, un 6, poi sarà dura portare avanti le pedine, forse 9,8, 9,7, 9,8, 9,7, era un errore da 60, 7,4, la mossa ha infetti più naturale, corretta, è anche andata bene, perché adesso, doppio 1 deve portare avanti, la, la, la pedina nella sua casa interna, e questo è un grosso problema, sì, direi che deve giocare 9,7, lasciare una pedina a colpo doppio, viene colpito, doppio 1, non è un gran tiro, non è un gran tiro, colpisce ancora, ottimo, doppio 5, adesso c'è un altro due pedine sul bar, c'è un po' di tempo per cercare di, di sgomprare l'outfield, rientra con tutte e due le pedine, accidenti, però il doppio 6 è ottimo, doppio 4, non viene colpito, doppio 6 eccezionale, adesso potrebbe anche fare backgammon, doppio 2, backgammon assicurato, ok, il gammon non era rilevante, invece il backgammon è eccezionale, qui deve ovviamente accettare, non so qui se giocare questa, o 24-21, qui sta duplicando il 4, bravo Carlo, doppio 5, non riesce a coprire la pedina, si deve giocare per il gammon, c'ha 5 blotti in giro, non è proprio il massimo, però, questa in effetti, sembra più equilibrata, ma c'è da dire che, il nero ha una, una struttura di prime, che se fa a casa 5, non è male, penso che rischierei questa, colpisce, accidenti, non ha molte altre possibilità, mi serve un 5, 2-1, schifosissimo, giocherei bar 24, 13-11, qui deve assolutamente fare casa 5, però rimane con un 3 non facile, giocherei 7-4, vediamo, sono curioso di vedere la mossa corretta, 13-10, 6-5, manca, a 7-4, 5-4, non 7-4, 6-5, come volevo fare io, e, probabilmente deve fare 8-4, 5-4, no, questa non mi piace, 6-4, non colpisce, in ritardo in corsa di 15, Carlo, quella posizione era troppo rischiosa, aveva 4 costruttori, però c'è da dire che subire gamma non è un grosso problema, qui servirebbe un 3 per ancorarsi, non rischierei mai di colpire loose con la casa di Carlo così forte, anche questa non mi piace, giocherei più semplicemente 9-5, invece no, non è corretta, era corretto switchare, finalmente fa l'ancora, 6 pip di svantaggio, doppio 5, direi che le chance ormai sono ridotte al lumicino, vantaggio in corsa è di 25, adesso 30 dopo il tiro, no, scusate, 19 pip, non è neanche un'enormità, però servirebbe un doppio 6 o doppio 5, sì, ma doppio 5 per Carlo, non per Haglund, 6-2, eccezionale, serve assolutamente un 2, tira il 2, grandioso, la posizione era quasi disperata, adesso ha ottime possibilità di vittoria, 3-1, 1 fuori, 5-4, 5-2, sì, 4-3 deve giocare dal 6, sperando che l'avversario non tiri un 6 subito, aia, 6-5, per fortuna 3-1 non è un gran tiro, rigiocato 2-1, doppio 4 ottimo, vabbè, diciamo che arriviamo sul 12-7, il sudafricano ha meno di 4 minuti, Carlo poco meno di 6 minuti, però considerato che siamo a Crawford, anche 4 minuti non sono pochi, doppio 3, questo è un double ovviamente, direi che è anche un take, ottimo, doppio 6 per il sudafricano, io penso che farei 24-18, e 13-7, sicuramente non lascerei l'ancora sul 24, questa mi sembra la mossa migliore, vediamo, infatti, era corretto fare il bar point, perfetto, colpisce, non viene ricolpito, però è un po' in ritardo ancora in corsa, questo è un tiro ottimo, leggero ritardo in corsa per Carlo, penso che giocherei 15-13-2, in modo da avere degli spare per portare avanti le pedine, questa mi piace meno, 13-11 non è contemplata, no, non 13-11, ma 15-13, proprio non è contemplata, in effetti Carlo è in ritardo, questo 6-2 non è un bel tiro, lo giocherei dall'otto, 5 pip di ritardo, entrambi i giocatori hanno delle isole senza spare nell'outfield, se Carlo riuscisse a rientrare con un 1, ma anche con un 5, cioè è rischioso colpire, intanto Carlo sta giocando poco sotto i 3, l'avversario poco sotto i 4, rientra ma non colpisce, accidenti, sì, 8-6 penso che sia la migliore, adesso ha difficoltà sudafricano a coprire tutti i blot, e qui su quella colpisce con quasi tutti i tiri, Carlo, con questa colpisce con i 4, con i 2, e i 6-3, ecco il 6-3, 3-1 chiude casa 5, ottimo, qui potrebbe anche fare Gammon, scenderei dal 15, qui Carlo vorrebbe chiudere il Prime da 6, però non ha tirato un bel tiro, questa mi piace, chiude il Prime da 6, 11-6, ahia qui porta avanti una pedina, diminuendo i rischi di Gammon, non si sa bene che cosa stia pensando, ah sta pensando al fatto che Carlo colpirà loose, però nonostante questo deve comunque giocare 13-7, ha poco più di 2 minuti per terminare il match, Carlo danza, niente Carlo danza, maledizione, sarebbe importante colpire un'altra pedina, ah no, 4-2, ha tirato 4-2, ha pensato danza, ma in realtà non è stato colpito, quindi 4-2, sono d'accordo, deve rischiare e colpire, adesso secondo me ha un 30%, 30-35% di Gammon, adesso direi che è aumentato, è aumentata la percentuale, adesso speriamo che non si scopra, invece si scopre, però non viene colpito, si scopre ancora, accidenti, non viene colpito, il Gammon è quasi sicuro, arriviamo sul 12-11, quindi sostanzialmente double match point, c'è solo il free drop, di vantaggio, rimasto solo il vantaggio del free drop, che chiaramente non dropperà, non potrà sfruttare, anzi, magari perde qualche secondo pensando se deve passare oppure no, quindi finale emozionante, 4, perfetto, 4-1, non è un gran tiro, penso che deve sicuramente colpire, probabilmente non so se è 13-9 o questa, viene ricolpito, ma colpirei sul caso a 20 sicuramente, doppio 5 è buono, non so se colpirei sul 5 o se giocherei più safe, il sudafricano colpisce ancora, ok, ancora avanzata, ottima, la corsa è all'incirca pari, servirebbe un 4-2 o 2-2, doppio 1, non è proprio eccezionale, mi piace fare casa a 5, mi piace fare casa a 5, colpisce, il sudafricano colpisce, beh, deve colpire, secondo me, questa è molto rigida, andrei avanti sul 15, non ha tirato un bel tiro, Carlo, qui porta in salvo la pedina e fa casa 4, ha un vantaggio in corsa di 27, doppio 4 per Carlo, direi 24-16 e 13-9-2, non mi è piaciuta proprio, era giusta 24-16 e 13-9-2, doppio 1 switch, sicuro, danza, ottimo, direi 22-16, adesso Carlo è in vantaggio in corsa, ha una buona casa interna, 3-1, non è un tiro eccezionale, si, deve giocare così, 7-3, direi 13-9-10, poco meno di 4 minuti per Carlo, 1 minuto e 40 per il sudafricano, però è l'ultimo game, quindi Carlo ha sicuramente tempo in abbondanza, e anche il giocatore sudafricano ne ha tranquillamente, colpisce con un 5-4, 6-3 e doppio 3, 6-2, ci è andato vicino, la corsa è all'incirca pari, colpire, non so, penso che, e no, 5-4, scendere dal mid no, perché lascia un tiro diretto, quindi è corretto colpire, qui ci vorrebbe un 4-3, 3-2 non è un gran tiro, assolutamente, doppio 3, direi dal 20 all'8, 3-2, qui è una corsa con un po' di contatto, direi non è eccezionale per Carlo, perché ha parecchio wastage, penso che scapperei, no, giocherei quella che stava giocando, 16-10, 16-13, 4 pip di vantaggio dopo il tiro, 6-5, maledizione, adesso un netto vantaggio per il sudafricano, soprattutto in considerazione dell'westige di Carlo, 4-2, non è un tiro eccezionale, giocherei 16-14, doppio 1, 6-2 non è male, però inizia ad uscire per primo il sudafricano, doppio 5 disastroso, eh sì, fa finta anche di pensarci, qui servirebbe adesso un doppio alto per Carlo, doppio 5 ancora, è finito il game e il match, ha tirato 3 doppi 5 in uscita, Carlo ha giocato a 2-69, l'avversario un più normale 4.4, e che dire, sudafrica conduce per 2-0, dobbiamo vincere le ultime tre partite, non sarà facile, grazie dell'attenzione e arrivederci, alla prossima. grazie a tutti, Grazie a tutti.